Rimaniamo in pieno paddock, parliamo di KF3, parliamo di Luca Bottarelli, parliamo di Gandolfi Racing, come va? Ma si dai abbastanza bene, abbiamo appena concluso una match, fatto quarto, un po' di difficoltà in qualifica, abbiamo avuto un po' di problemi, però dai partiamo sempre in quinta fila, vediamo adesso di fare ancora meglio.